Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Allora oggi, come sapete, è carnevale. Chiaramente faremo un carnevale diverso, dal solito, perché di solito io ero abituata agli altri anni ad andare a Francavilla, appunto perché lì fa sanità, è bello, era bello, c'erano quelle giotte, però quest'anno ci dobbiamo adattare. Però non dobbiamo perdere comunque la speranza, perché comunque anche a casa ci possiamo divertire lo stesso. Quindi vi mostrerò appunto un buon trucco per carnevale. La prima cosa che vado a fare è passare una bella base sul l'occhio, quindi un colore molto chiaro. Io prenderò questo qui, se lo vedete. fatto questo andiamo con colori un po' più scuri. Io vorrei stare un po' più viola, ma potete vedere. Prenderò questo viola qui, se lo vedete. Adesso, con questo pennello qui, prendiamo un altro colore ancora, prenderò il nero, e lo passo praticamente sotto il sovracciglio. poi, sempre con il nero, con quest'altro pennello, andiamo a tracciare un pochettino i contorni. mi sto facendolo così. Voi lo vedete? Adesso mettiamo i trucchi e ci concentriamo sulle decorazioni. Mi serve lo specchio, scusate. io uso questi colori e con questo faccio le decorazioni. una volta fatto questo andiamo a decorare le nostre longi. un pochettino. un pochettino. un pochettino. un pochettino. un pochettino.